Com'è stato quest'anno? Difficile per lei? Ho perso il virus. Ah lei l'ha già avuto? Sì. Ah beh e come se l'ha cavata? Bene. Niente, nessun dolore, niente. Ma dai, è stato asintomatico allora. Sono un po' fiaco. Ma l'ha appena avuto? No, due mesi. Può mettere un po' di ghiaccio, della pomata allarmica alla calendula, altrimenti niente. Può anche non mettere assolutamente niente. E' contento di vaccinarsi? Ma la mia compagna non era un po' contraria, però ho sentito che mi sono informato un po', mi hanno detto che conviene farlo perché sennò si rischia. e fra un mese faccio 80 anni e lavoro ancora. Lidia Fabeni? Lida. Lida, scusi, Fabeni. Da dove viene lei signora? Da Limana. Da Limana. Lei? Paesino su. Classe 41? Sì. Perfetto. Cosa ha detto quando ha visto la lettera che gli è arrivata? Che me l'ha mandato troppo presto così, ho dovuto il tempo di agitarmi. Dai, davvero? È preoccupata signora? Sì? No, subito sì, dopo con calma mi è passata, però sa? Prima che arriva ne senti tante, uno fa così una reazione più che altro. Certo, certo. Poi vivendo da sola ti fai mille castelli. Perché è contento? Perché speriamo di portarla fuori. È stata dura quest'anno? No, assolutamente. No? No. Non ha risentito magari di non vedere i figli, non so, i nipoti, gli amici? È stato bene così. È stato mascherino. È stato bene così? Ah, bene, bene, dai. Però oggi si sente un po' più fortunato degli altri che è qui a vaccinarsi. Sì. Grazie.